Funziona l'attività di repressione, anche se resta ancora tanto da fare sul fronte ambientale. Il comandante Regione Campania dei Carabinieri Forestali, generale Sergio Costa, traccia la mappa delle criticità sul territorio. Ospite di un appuntamento, la provincia di Salerno sottolinea la necessità di provvedimenti sempre più stringenti per contrastare gli inquinatori di professione. Le province che sono un po' più in difficoltà da questo punto di vista sono la provincia di Napoli e la provincia di Salerno. Però ci dice anche che c'è una discreta percentuale di miglioramento rispetto all'anno scorso e rispetto al trend degli anni precedenti. La percentuale degli arresti e dei sequestri è addirittura salita del 3-400%, questo anche grazie alla nuova legge sui cosiddetti ecodelitti che è del maggio del 2015, quindi da poco ha festeggiato due anni. Non è mancata poi una riflessione su un'altra piaga particolarmente sentita in questi giorni in tutta la Campania, ossia gli incendi. Solo uno stupido può pensare che là si incendi per costruire. Le chiavi di lettura sono altre. Per esempio vogliamo parlare dei pascoli, dei rinnovi dei pascoli e della siccità collegata, quindi probabilmente anche quella è una chiave di lettura, senza criminalizzare categorie ci mancherebbe altro. Oppure i bracconieri, che è cosa diversa dal cacciatore, ovvero sia coloro che già fanno bracconaggio ma che mettendo fuoco da una parte della collina spingono gli animali nella parte sana per poterli bracconare con maggiore comodità. È un reato su un altro reato.